Musica Abbiamo dall'altra parte un compito che è quello di rendere queste gallerie sempre più attrattive, renderle interessanti perché attraverso la gestione completa del centro commerciale riusciamo ad essere, a fare la differenza e sempre più nella nostra attività parliamo di community center, non più di centri commerciali. Cos'è un community center? Un community center è una piazza, è fondamentalmente la piazza, la piazza vera, storica che per ragioni di evoluzione anche del mercato e delle varie socialità che si sono verificate nel corso degli ultimi anni si porta anche nel centro commerciale, non è che la vecchia piazza viene abbandonata, no, si affianca una nuova piazza, una piazza diversa e contemporanea, certo. Il sistema è molto più articolato perché parte da un CRM fondante che è potentissimo. In questo CRM abbiamo integrato le telecamere, counting and profiling che ci daranno ovviamente in tempo reale i clienti, cioè ci descriveranno sesso, età e l'etnia. Ricordaci la pedonabilità che hai nominato prima. 180 milioni, anno. E poi abbiamo questo, c'è il Wi-Fi, c'è l'app, ci sono gli access point di cui parlavo lì prima, abbiamo integrato i totem e la radio in store e poi ci abbiamo aggiunto anche il logo olfattivo perché così completiamo veramente con tutti i sensi la shopping experience dei nostri clienti, anche se non dovremmo più chiamarla shopping experience perché alla fine se il 30% con l'idagine di Trade Lab ci dichiara che non vengono nel centro commerciale per fare un acquisto, questo vuol dire che ormai stiamo veramente assolvendo al compito dei community center. Credo che a breve saremo in grado di innanzitutto capire meglio come sono composti i nostri clienti, i nostri visitatori, che cosa fanno nelle gallerie, ma soprattutto avremo un dialogo. Perché? Perché attraverso l'app, attraverso anche appunto i social network noi dialogheremo, avremo la possibilità di comunicare al cliente, non saremo invasivi. Ecco, spiegaci bene esattamente come pensi di usarlo. Allora, le regole sono libertà, che è una bella parola che ha detto prima anche il collega di Miroglio, sicuramente equilibrio perché non dovremmo stressare assolutamente, il visitatore non deve sentirsi sorvegliato né sentirsi pressato, non è questo che noi vogliamo, daremo al massimo due notifiche quando entra nelle nostre gallerie. Faccio un esempio di messaggio che potrebbe essere interessante. Il primo è benvenuto perché comunque mi sembra scontato, il secondo sarà un evento o una promozione dedicata, ma l'utente avrà la possibilità anche avvicinandosi al totem di ricevere una promozione dedicata a lui, ovviamente, ed esclusiva secondo il suo target, le sue preferenze, i suoi desideri. Ci troviamo spesso nella condizione di rifiutare offerte del mall che ci offre la promozione al momento, per il semplice motivo che aziende come la nostra con più punti vendita non sono in grado di agire localmente, perché io ho 11 persone che lavorano anche con me e posso gestire. Quello che ha fatto, un passo che ha fatto avanti, che ha fatto Bennett, è quello di dare una piattaforma di accesso dove con una sola attività io vado a gestire 23 negozi che ho sui door mall, mentre invece negli altri punti vendita generalmente la risposta è no, non lo facciamo, a meno che non possa essere azionata direttamente dallo store manager del negozio. La domanda è, avete in previsione di concedere uno strumento ai tenant per gestire la totalità dei punti vendita che ha presso di voi, oppure è una cosa che è ancora complicata? Posso provare per capire la domanda? Cioè, quello che si è capito bene, siamo disposti a gestirci noi la promozione, naturalmente con, se ci date lo strumento inseriamo, siamo disposti a metterci? A inserirmi nel totem, ma se loro hanno 60 punti vendita con i miei negozi dovrei ripetere 60 volte la stessa operazione, cosa che non voglio e non posso fare, ma che se potessi fare una volta per 60 negozi ovviamente... E su quei 60 tu hai la stessa promo, no? Certo, la stessa promo, se poi devo diversificare perché io ho una situazione diversificata, sta a me, decida a me. Allora, il sistema che noi abbiamo inserito è veramente splendido da questo punto di vista, non ci permette tranquillamente di fare questo tipo di rispetto. È flessibile, quindi la risposta è sì. Quindi sì, abbiamo ovviamente le nostre procedure, è immediato, tranquillo, facile, non c'è nessun problema. Grazie a tutti.